Prima di qualsiasi cosa seguite questa page perchè fa assolutamente morire da ridere, mi raccomando seguitela E ciao a tutti ragazzi, sono l'unico e solo e oggi volevo darvi due precisazioni La prima cosa importante è, questi giorni ho fatto una live, molte persone sono iscritte e sono contento Continuate a iscrivervi, condividete questi video con i vostri amici Così riusciamo a creare una community più ampia E presto, molto molto presto, cioè molto presto un paio di cazzi perchè ci vorrà tanto tempo Ma questo canale diventerà un bel canale e io porterò contenuti sempre più di qualità Seconda cosa, io ho un canale e un gruppo Telegram con cui sono in contatto con voi Mando tutte le cose, se voi non siete ancora entrati dentro questi gruppi Non aspettate, che state aspettando? Ma entrate dentro questo gruppo, entrate nel canale Perchè questo è un gruppo dove siamo in contatto, nel senso io sono in contatto con alcuni fan Parliamo, discutiamo, faccio anche domande, faccio anche proposte su cosa portare sul canale Quindi se volete essere attivi anche voi su questa cosa, non perdetevi il gruppo Telegram Io vi lascio il link in descrizione insieme al canale dove pubblico spesso sondaggi e robe varie Perciò se voi siete attivi, mi piace, ben venga Entrate nel canale, entrate nel gruppo, non vi pentirete, ve lo assicuro Volevo invece dare due cose per quelli che seguono le live Punto 1, nel live io se gioco a una cosa, gioco a una cosa Quindi se tipo sto giocando a Clash Royale Non interromperò Clash Royale per giocare a Blood Stars O per giocare tanto meno a Fortnite Ma io a Fortnite non ce l'ho manco installato nel computer Perchè se porto una live su una cosa La porto su una cosa Se invece volete che porti delle altre live Canale Telegram Io lascio sempre i sondaggi ogni live che faccio Votate per quello che vi piace di più E io lo porto Però se voi non entrate e solo durante la live mi chiedete di portare un gioco No, non è fuori discussione Perchè io sto già facendo un'altra cosa Non posso mettermi a fare 20 cose insieme Con ragione spero Nelle live di Clash Royale Io ho intenzione di portare i tornei con voi Quindi la sera Sempre nel canale Telegram Pubblicherò lo screen del torneo Con la password Perchè lascerò la password Metterò una password per fare in modo che Siate solo voi Non sia nessun'altra ad entrare Perchè è un torneo riservato ai miei fan Non aiuta la gente che ne viene dal Burundi Perchè se volete giocare a questi torneri Unitevi al mio canale Telegram Vi lascio il nome del screen del torneo E la password Perchè metterò sempre la password E giocheremo in live Se poi non potete giocare Perchè o non avete il gioco O non Qualsiasi altro motivo La nonna non ha fatto gli gnocchi Eccetera Pazienza Seguite la live E vedrete E la volta dopo Potrete essere tranquillamente attivi I miei tornei dureranno un'ora Non di più perchè Io non è che posso farmi live di 24 ore Cioè Faccio un'ora di live E spero che vada bene a tutti E niente Spero di aver dato delle precisazioni importanti Mi raccomando Iscrivetevi al canale Fate iscrivere tanta gente Così creiamo una community sempre più attiva Sempre più grande Possiamo anche cambiare consigli Quelle cose lì Perchè poi Con il gruppo che sto creando Io sto fornendo consigli alle persone Così come le persone stanno fornendo consigli a me Ci stiamo aiutando E pian piano Diventeremo una community sempre più forte Però Tutto questo lo possiamo fare soltanto grazie a voi Quindi Mi raccomando non mancate Perchè se voi Entrate su questo canale E state inattivi State tranquilli Che non si crea mai una community Senza le persone Detto questo Io vi saluto Se il video vi è piaciuto come al solito Lasciate un commento e un mi piace Scrivetevi qua sotto cosa ne pensate Se avete qualche proposta da farmi O me la scrivete nei commenti Oppure Gruppo Telegram Sempre qua qua sotto Ma lo sto ripetendo una mezz'ora E niente Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Oggi Uscirà anche Un video su Clash Royale Verso le 15 Quindi non vi preoccupate Che non è che Esce soltanto un video Noioso Ma esce anche un bel video